Intanto l'invito fatto a tutti i sindaci della costa, non solo a quelli che hanno chiesto l'incontro oggi, di caricare sulla piattaforma tutti i dati che riguardano i danni. Questo servirà a sostenere la richiesta dello stato di calamità e di emergenza anche per la nostra regione, perché in effetti anche i fenomeni descritti partono dall'inalzamento dell'acqua del mare attorno al metro, che ha chiaramente semplificato e favorito il lavoro dell'acqua nell'invadere spiagge, stabilimenti e fare danni. Il secondo aspetto riguarda invece gli interventi di natura strutturale che le due località, quella di Montemarciano e di Porto Sant'Elpidio, stanno promuovendo da tempo per fare il punto sui vari aspetti. Il più importante, sul nodo numero uno, il nuovo piano della costa che permetterà di fare barriere emerse, il vecchio piano della costa prevedeva solo barriere soffolte, in questi tratti che andrà in consiglio o il 28 novembre o il 6 dicembre, e da quella data si potranno presentare anche i progetti per le barriere. Nel caso di Montemarciano poi 12 milioni di euro attendono un decreto del Presidente del Consiglio per l'approvazione e la destinazione di questo stanziamento, che anche questo è un provvedimento atteso, sembra che anche questo iter sia concluso ed è un secondo fatto positivo. Con il caso invece di Porto Sant'Elpidio c'è l'impegno della Regione col bilancio a finanziare l'opera e già in assestamento dovremo mettere le prime risorse. Questa coincidenza di dati permetterà finalmente di partire con gli incarichi di progettazione e poi la realizzazione di interventi che non sono solo interventi tampoli, ma sono interventi di lungo durata che proteggono la costa, creeranno spiaggia, permetteranno di avere le risposte. Quegli impegni presi dalla Regione stanno proseguendo e stanno finalmente arrivando al loro compimento.